Onorevole Giosi Ferrandino, una lezione magistralis agli alunni del Mattei per parlare di Europa in un momento in cui avanzano le destre e c'è questo movimento anti-europeista. Un appuntamento probabilmente per far capire quali sono i vantaggi dell'essere europeisti. Sicuramente sì, ho accettato di buon grado l'invito del preside siciliano a stare questa mattina un'oretta insieme ai ragazzi del Mattei, soprattutto le ultime classi. Molti di loro andranno sicuramente al voto a maggio, ma soprattutto in questo momento, come prima dicevi, dove c'è una politica anti-europeista che molti partiti stanno portando avanti, io dico esclusivamente per cercare di racimolare un po' di voti in più, che però va a minare alle fondamenta quella che è un'istituzione europea fondamentale per l'Italia, come per tutti i paesi e gli stati membri. Stiamo vedendo cosa sta accadendo in Gran Bretagna quando con molta spavalderia dopo il referendum si diceva che bisognava uscire dall'euro perché era meglio per il singolo stato membro e stare da solo piuttosto che insieme agli altri. Si sta avvenendo che invece non è così, anzi la Gran Bretagna sta vivendo un dramma sociale, un dramma economico, stanno scappando tutte le più grandi aziende da lì, tant'è che sono scesi in piazza milioni di persone per cercare di rivedere questa posizione. Questa la dice lunga, la dice lunga sul fatto che si sta facendo tanta disinformazione solo per racimolare un po' di consenso in più, si sta cercando di manipolare quella che è anche la mente delle persone e soprattutto sui ragazzi può avere magari ancora più effetto questo tipo di politica in quanto magari non sono riusciti ancora per il loro ciclo di studi, per la loro formazione a capire invece l'importanza dell'Europa. Allora per me è un'occasione idiotissima poter spiegare loro intanto come funzionano le istituzioni europee perché molti di loro certamente non lo sapranno. Quali sono i riflessi che l'Europa ha sul singolo Stato membro, in questo caso parlerò chiaramente dell'Italia, sia in positivo che in negativo, in positivo per le grandi opportunità che l'Europa dà ma soprattutto ai giovani. Immaginate prima cos'era quando non si poteva circolare liberamente, la loro generazione non conosce come era prima quando c'erano le frontiere, quando non c'era l'Erasmus. Quanti giovani si sono formati durante la fase degli studi ma anche post studi all'estero grazie ai finanziamenti europei e grazie all'Erasmus. Sono cresciuti meglio, si sono formati meglio, hanno avuto un orizzonte che si è schiuso davanti al loro enorme, cosa che invece è la mia generazione, opportunità che non ha potuto avere. Le grandi opportunità che dà l'Europa per quanto riguarda i finanziamenti per le grandi infrastrutture, per la tecnologia, per la digitalizzazione. Anche in negativo è chiaro che per stare in Europa bisogna rispettare determinate regole che a volte stanno strette, però bisogna saperci stare perché alla fine i benefici sono certamente superiori ma di gran lunga a queste difficoltà e a questi impedimenti. Sono comunque convinto che questa politica di austerity, ma non solo io, oramai tutti i partiti che compongono l'Unione Europea, il Parlamento Europeo lo sono, che bisogna cambiare qualcosa. Quindi abbandonare un attimo la politica di austerity, pensare più alle fasce deboli perché ci sono sacche di povertà in tutta Europa ancora e bisogna pensare a loro e soprattutto concludere nel giro di pochi anni il sogno dei padri fondatori dell'Unione Europea che era quello di creare gli Stati Uniti d'Europa. Quindi non solo un'Europa unita dal punto di vista finanziario, come oggi, ma un'Europa unita anche dal punto di vista politico. Quindi un'Europa politica unita, un po' come gli Stati Uniti d'America. Quando saremo arrivati a questo, e spero quanto prima, credo che si sarà chiuso un ciclo che avevano immaginato i padri fondatori e allora probabilmente le negatività di cui parlavo prima non ci saranno più.